Lo aveva detto il ministro Costa, non si abbasserà la guardia, fiume inquinato con argini poco sicuri, nuovo sopra luogo lungo il fiume Sarno, tra le province di Salerno e Napoli. Risultato esposto presentato dal Movimento 5 Stelle. I portavoce di Camera e Senato, Luisa Grisani, Virginia Villani e Silvana Nappi, il portavoce regionale Luigi Cirillo hanno fatto tappa nelle aree di maggiore criticità idraulica del territorio dell'agro, nocerino, sarnese ma anche del Vesuviano. Si è voluto dare il via ad un percorso ricognitivo di verifica e monitoraggio partendo dalla località Fuce a Sarno. Il sopralluogo è proseguito fino al Vesuviano. Tra Poggio Marino, San Giuseppe Vesuviano e Terzigno è stato constatato lo stato di degrado delle vasche Pianillo e Fornillo fino ad arrivare a Scafati al confino con Bosco Reale, località 31, su un tratto del canale Conte Sarno. Lungo tutto il percorso è stato accertato un forte stato di degrado ma anche la presenza di sversamenti di rifiuti di ogni genere, speciali, pericolosi e non, in pieno parco regionale del Velozuvio e a ridosso dei centri urbani. I dubbi e le lacune del grande progetto Sarno sono già visibili, così come lo spreco di milioni e milioni di euro, hanno dichiarato i portavoce del Movimento 5 Stelle presenti. Sul versante allagamenti, hanno aggiunto, ci sono ancora tante criticità da risolvere, danni che le comunità scontano sulla propria pelle giorno dopo giorno. Lungo il tragitto per la presenza di rifiuti speciali è stata anche effettuata una segnalazione presso i carabinieri e nei prossimi giorni sarà presentato un esposto presso le procure della Repubblica competenti per garantire il controllo e il monitoraggio di un territorio, dicono i 5 Stelle, da troppo tempo avvelenato. Grazie. Grazie a tutti.